Andiamo dal fisiatra, 12 minuti di visita, 122 euro, 10 euro al minuto, come un giro in elicottero sopra Venezia, e mi prescrive la fisioterapia. E faccio, ma scusi dottore, ma una curiosità, perché 122 euro? Due euro sono per la marca da bollo? Ah ok, ma non poteva fare 118 più 2, 120? Fa sì sì certo che potevo, solo 122 euro. Grazie.